Irmanno, ciao Irmanno, queste sono le ragazze di stamattina, le ragazze di stamattina sono fatte la domanda, ok, andiamo velocemente a spiegare il ballo, una vita in vacanza, si va verso la mia destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uno, due, tre, tacco, 1, due, tre, 4, 5, 6, 7, 8, 1, due, tre, sape, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok, adesso andiamo. 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 Ok, adesso andiamo.